Caccia la terza vittoria consecutiva per il Palermo, atteso questa sera dalla gara interna contro il Padova, valida per la 34esima giornata del campionato Serie B KT. Della sfida ai Veneti, reducita al pareggio casalingo contro il Cosenza, ha parlato l'allenatore rosanero Roberto Stellone. Mi auguro che, dato che ormai stiamo agli sgoccioli, dato che ormai mancheranno tre partite in casa, mi auguro che ci sia una grandissima presenza di pubblico, perché è importante, perché questa squadra, questi ragazzi hanno dato l'anima fino a oggi e penso che con tre vittorie in casa e quindi con la spinta del nostro pubblico potrebbe succedere qualcosa di positivo per noi. Sarà possibile acquistare oggi biglietti presso la bietteria sud dello stadio Renzo Barbera dalle 10.30 alle 17 e presso i punti vendita Viva Ticket autorizzati, tariffe ridotte per donne Under 18, Over 65 e promo abbonamenti per la stagione 2019-2020. Dirigerà l'incontro il signore Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, fischio d'inizio in programma alle 21. Grazie a tutti.